Salve, stiamo leggendo stati scelti riguardanti il tema di Ibur, il concepimento. Potete fare le domande al nostro sito, come potete, di bus lescita, le domande che hanno a che fare come hanno studiato saranno fatte dal vivo. Ibur è il primo gradino, l'entrata alla spiritualità, alla sensazione del mondo superiore, alla sensazione del bore. Ed è una rivoluzione molto grande nella percezione della realtà, la sensazione della realtà, la comprensione della realtà. Dove l'uomo finalmente inizia a conoscere le qualità del bore, ma le qualità del bore non le conosce, non le può conoscere, ma soltanto al di sopra della propria natura. Perciò il concepimento è una cosa che da un lato è la più dura, perché entriamo in una sensazione della realtà la quale non ce la raffiguriamo per il momento. Da un lato, dall'altro lato il gradino è facile, è il primo, che non ha niente se non annullamento. Annullarsi come se non esistesse, come l'embrione nell'utero della madre, ed allora avrebbero ancora discernimenti. C'è la malchut che deve annullarsi nei confronti delle nove prime sfirot, che sono nove mesi della gravidanza, tre sezioni, chiamate così. Nei, chagat, chabad, e così l'uomo, nell'annullamento crescente, col fatto che sia nulla, diventa muto, non ha niente da chiedere. Solo riceve la sovranità, il controllo del superiore di sé per quello che è capace. E così egli va avanti. Ci sono coloro che questo processo può prendere tempo breve, e altri che nove mesi di gravidanza possono essere come nove mesi e oltre, e così via. Però, la cosa più importante è di cercare di raffigurarci che cosa significa l'embrione, Ubar, e di tratteggiarci questa immagine. Che cosa significa che io mi annullo? Che io sono all'interno del superiore, il boe è tutto, non esiste nulla tranne lui. E la prima conoscenza è che non esiste nulla tranne lui, che veramente non esiste nulla tranne lui. E come io mi raffiguro che sono là dentro, in Mocha e l'Iba, in tutti gli eventi che mi attraversano, che mi toccano di più o di meno, in tutti i modi come io, mi annullo. L'azione più facile da tutte le altre azioni che dopo dovremo fare in Yannicka, Popata e in Gadlut. Grandezza, là dovremo lavorare attivamente, proprio da parte nostra, di assomigliarci al boe, di essere colui che dà, ora è solo l'annullamento. Sebbene nei confronti di tante influenze, disturbi, domande, io direi espressioni, però è un'espressione, è un annullamento, fino a che si annulla totalmente nel gradino più piccolo, in tutto il resto dei gradini, là c'è anche restrizione, dà anche massacche, luce riflettente, dove dobbiamo lavorare sul desiderio di ricevere e di convertirlo nel desiderio di dare un assoluto. Qua è solo l'annullamento. Come noi possiamo raffigurarci questo lavoro e questa situazione che dobbiamo attraversare ora? Prego.